Entro lunedì dovrà essere pronta la porta blindata lungo il confine tra Ungheria e Serbia in costruzione sui binari della ferrovia. Martedì invece entreranno in vigore le nuove norme del governo ungherese che prevedono l'arresto di chi entrerà illegalmente nel paese con danni fino a tre anni di carcere. A Rausche intanto si rischia l'emergenza sanitaria. Il flusso di migranti sembra un fiume in piena impossibile da controllare. O continuiamo a costruire confine e a trattare la gente con brutalità schierando l'esercito e mettendoli nei campi di detenzione oppure accentiamo il fatto che i richiedenti asilo continueranno a provare a venire in Europa e devono essere trattati in maniera umana e poter esercitare il loro diritto d'asilo. Sono decine i detenuti delle carceri ungheresi che aiutano ad ultimare i lavori per la barriera. La stessa barriera che è al centro di un'aspra polemica tra il premio ungherese Orban e il cancelliere austriaco Feynman che accusa il governo di Budapest di utilizzare metodi nazisti per deportare le migliaia di profughi nei campi di identificazione. Intanto sono 4.300 i militari ungheresi dispiegati lungo il confine con la Serbia. Orban ha avvisato da martedì chi verrà trovato senza documenti validi verrà rispedito da dove viene.